Un blitz nel pomeriggio di martedì nel Campososta Panareo a Lecce ha permesso di rinvenire armi e droga. All'operazione hanno preso parte gli agenti della squadra mobile del reparto prevenzione crimine per la Puglia meridionale di Lecce, del gabinetto provinciale di polizia scientifica, del nucleo cinofili ed artificieri della questura di Bari e del nono reparto mobile di Taranto. Occultato all'interno di un grosso scooter abbandonato è stato rinvenuto un fucile mitragliatore d'assalto AK-47, perfettamente funzionante lubrificato munito di caricatore e otto munizioni calibro 7,62. I controlli hanno permesso di rinvenire circa 6 kg di marijuana, 1,6 di hashish, due pistole di piccolo calibro, una delle quali comatricola brasa e numerosi proiettili di vario calibro. Per quest'ultimo ritrovamento è stato arrestato un giovane di origine slava, residente nel Campo Panareo e condotto presso la casa circondariale di Lecce. Sono in corso ulteriori approfondimenti.